Intanto oggi gli avvocati protestano in tutta Italia per reclamare alcune modifiche al mondo della giustizia. Svariati i motivi della protesta, tra questi il no alla riduzione della prescrizione. Ascoltiamo l'intervista al presidente della Camera Penale di Trani, Giuseppe Losappio. La protesta è nazionale, ma su questo si inserisce anche la situazione di emergenza del Tribunale di Trani. Sì, senz'altro. Il presidente del Consiglio dell'Ordine, l'avvocato Bertolino, ha inviato una lettera tra gli altri anche al Ministro della Giustizia evidenziando che nel Tribunale mancano sette magistrati, tre nel settore penale. È chiaro che su una pianta organica di una decina di unità la mancanza di tre magistrati significa che per quanto noi riconosciamo gli sforzi che vengono compiuti dai magistrati in servizio, significa che il servizio giustizia è presente delle criticità. E questo è il primo problema. Quindi questa iniziativa vuole con forza richiamare le autorità competenti perché si attivino e ci diano gli magistrati che mancano. Il secondo problema è quello delle strutture. Ovviamente non è un problema di breve periodo, è un problema di lungo periodo, però è arrivato il momento che si definisca la strategia perché non si può andare avanti più con rimedi tampone e quindi si stabilisca dove dovranno essere allocati gli uffici giudiziari che in questa sede evidentemente non è più in grado di contenere. Anche perché l'accorpamento degli uffici di fatto ha portato a Trani, a tutto il sistema dell'intero foro tranese. Assolutamente sì. Uno dei problemi è questo, diciamo, con la cosiddetta unificazione delle sedi. Tutte le sedi periferiche, ad eccezione di Andria, oggi operano qui e quindi in una struttura bellissima ma evidentemente inadeguata a questo scopo c'è un sovraccarico che concorre insieme al deficit di unità inorganico a rendere notevolmente complessa la situazione. Quindi, ripeto, occorre che si passi dalle varie forme di progettazione ad una strategia chiara che sia immediatamente convocato un tavolo nel quale i soggetti competenti decidano dove e decidano come e decidano anche quella che si chiama adesso roadmap, cioè che si sappia quando si faranno queste cose che non possono essere più rinviate. Non è semplice perché la crisi economica, come sappiamo tutti, tende a ridurre le risorse piuttosto che a incrementarle, ma la nostra astensione ha proprio anche questo obiettivo, cioè di richiamare l'attenzione di tutti su questo problema. Grazie.